Ciao picciotti! Il Rik ha origini antiche, risalenti a migliaia di anni fa. Veniva suonato nell'antica Mesopotamia e si è voluto nel tempo per diventare uno strumento iconico della musica araba. Nel mondo islamico il Rik divenne parte integrante delle cerimonie religiose e delle celebrazioni culturali, un simbolo di unità e diversità. Durante l'età d'oro dell'islam, il Rik raggiunse l'apice della sua fama, diventando uno strumento centrale nelle corti reali. Il teatro musicale arabo ha reso il Rik uno strumento di spicco nell'arte della performance, suscitando emozioni profonde nei cuori degli spettatori. Oggi il Rik continua a suonare un ruolo significativo nella musica araba contemporanea. Unisce le persone attraverso la musica, cultura ed innovazione. Il Rik, con la sua storia ricca e la sua bellezza sonora, è una testimonianza della magnificenza della cultura araba e della sua continua evoluzione. Grazie mille ragazzi per esserci stati anche su questo video e ci vediamo al prossimo. Un abbraccio! Grazie mille ragazzi per esserci stati anche su questo video e ci vediamo al prossimo. Grazie mille ragazzi per esserci stati anche su questo video. Grazie mille ragazzi per esserci stati anche su questo video e ci vediamo al prossimo.